I supporti KLXR ad aggancio rapido dopo la prima installazione vi risparmieranno tempo e fatica. In alcune mosse vi mostriamo come fare. Posizionare il telaio tubolare e, utilizzando la chiave inclusa nel kit, ruotare di un quarto di giro le viti speciali nelle apposite sedi presenti nei supporti preinstallati alla moto. Per agganciare la valigia monokisside basterà inserire i due perni presenti sulla base del telaio, nelle sedi esistenti sul fondo della stessa, premendo sul nasello di aggancio fino a sentire il click. Per aprire la valigia ruotare la chiave in posizione orizzontale e premere sul pulsante rosso di apertura. All'interno è dotata di cinghia elastica per stabilizzare il carico. Richiudere il vano di carico premendo sul pulsante press. Per sganciare basterà inserire la chiave e ruotarla in posizione orizzontale, quindi premere sul pulsante di sgancio rosso e rimuovere la valigia. Per riportare la moto alla sua linea originale sarà sufficiente ruotare di un quarto di giro le viti speciali e rimuovere il telaio KLXR dalla moto.